Nonostante l'esito del vertice di Bruxelles sui problemi del debito, la Grecia potrebbe dover affrontare ulteriori sconvolgimenti politici interni, come alcune possibili defezioni che andrebbero a indebolire i poteri del primo ministro Alexis Tsipras. L'opinione degli analisti obbliga ad alcune riflessioni. L'accordo appena trovato prevede più recessione per la Grecia e i cittadini che hanno sostenuto a Siriza ne sentiranno il peso, il premier a Bruxelles ha cercato di evitare che ciò accadesse, ma non ce l'ha fatta. Questo accordo potrebbe causare quello che definirei il Big Bang del sistema politico greco, ma credo che il signor Tsipras potrebbe riuscire a gestirlo principalmente con l'aiuto dell'opposizione. Tsipras acciederà l'approvazione del Parlamento, ma ancora una volta potrebbe non avere l'appoggio di una parte del suo partito. Per gli osservatori politici in Grecia Tsipras ha solo tre opzioni, nuove elezioni, un governo di unità nazionale e un giro di vite sui membri di Siriza. L'accordo fatto da Alexis Tsipras a Bruxelles ha moltiplicato anziché risolto i suoi problemi politici al suo ritorno a casa. Primo ministro più giovane mai eletto nella storia moderna della Grecia ora corre il serio rischio di diventare quello di più breve durata.